Benvenuti, cari follower! Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Quindi, come vi ho confermato nei video precedenti, le previsioni sono confermate da tutti i modelli meteorologici digitali globali e indicano che gli ultimi giorni di questo mese, febbraio 2024, saranno ricchi di forti tempeste di neve che colpiranno duramente l'Italia, con grandi quantità di neve e pioggia, insieme a una forte ondata di freddo e gelate di tipo europeo. Nel suo ultimo aggiornamento indica l'arrivo di aria molto fredda nell'Europa occidentale. Quest'aria fredda si farà gradualmente più profonda nel bacino occidentale del Mediterraneo e è probabile che raggiunga l'Italia negli ultimi giorni di questo mese, febbraio, con attese abbondanti nevicate al nord, al centro e in varie zone del sud. Un'ondata di freddo molto intensa e temperature sotto lo zero cadranno anche in pianura e a quote molto basse, soprattutto dopo il 25 febbraio. Dove l'Italia sarà esposta a forti tempeste di neve, anche la pioggia cadrà in quasi tutte le regioni da nord a sud, ma gradualmente. E le previsioni indicano una serie di forti in alto attraverseranno temporali sull'Italia, che porteranno con sé un vero inverno per almeno un'intera settimana. Quindi, non fatevi ingannare dall'atmosfera calda e stabile, perché l'inverno sta arrivando forte e ci sarà un forte cambiamento del tempo, a partire dal il 23 febbraio. E poi dopo il 25 febbraio la situazione si intensificherà ancora di più. E tra qualche giorno arriverà anche in Italia. Ho detto che stiamo seguendo tutti i nuovi aggiornamenti e maggiori dettagli. Rimanete sintonizzati più tardi. E quando il periodo si avvicinerà di più?